si si fixate cose bla 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 iniziamo ormai la storia è quella poi l'avete visto l'artivo ovviamente la stiamo che dire che dire poche cose sono cambiate effettivamente rispetto all'altra volta quindi però 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 a ci siamo ci siamo eccoci qua nuovo mondo non è bestemmia come già esplosioni bene ma ne esplosono lì addirittura una caverna proprio sì stavo pensando se buttassi e prendere allora prendiamo prima la legna buttiamo giù subito un albero buttiamo subito giù un albero e poi scendo da sotto a prendere tutta la roba che hanno robato in mondo così si spegne anche il fuoco nel frattempo sperando che non esplodono altri sempre esplosioni a profusione mamma mia animali proprio devo controllare un'altra cosa perché mi vengono in mente le cose proprio mentre rompo gli alberi è come fare la doccia si prendono proprio le illuminazioni si devo controllare quell'altra cosa oh time is it ho visto l'albero crescere bellissimo crolla l'albero crolla manca un'altra due mi sa nooo ho smesso di rompere l'albero per la paura fanculo eccomi ricominciamo a rompere l'albero no che piaga era meglio morire a sto punto maledizione dobbiamo fare gli alberi più piccoli cioè ci vede tutto sto tempo un albero normale è proprio di quelli di Darkoak che sono enormi con un secolo che spano nella foresta di Darkoak oltre che se è finito perché spano anche mob che è buio ma a parte quello è bestemmia dai vai 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 che ce la fai vai 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 che ce la fai una savana c'è lì figo figo dai era così prima è arrivato il creeper mi ha rotto tutto mancava poco per romperlo maledizione nooo ecco di qua grazie gentilissimo dammi troppo dammi troppo ok guarda lì acqua creeper come sono lì pronti a mordermi se io prenderei tutto io me ne andrei ma fortissima arrivederci grazie ok questo della stone non serve a niente questo è anche della terra ottimo ottimo abbiamo due gratin table un sacco di stick ah ce li avevo già a maledizione vabbè li posso sempre usare per fare gli attrezzi e una la facciamo così una la mettiamo qui insieme a questo facciamo tech 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 poi facciamo poi facciamo ecco la che cosa vuoi farmi non mi picchiare please sono buono non è vero mi ammazzo allora ascia prima cosa posso fare anche in pietra che culo la trinta è meglio però che fa ci spogli sopra usiamo gli stick che ok stonks taran mettiamo giù un altro albero via ok ora ci vuole molto meno tempo cari peppino cari mi capita che serve questo blocco che spawna sotto vabbè guardando che cade facciamo anche pittone spada spala taglie e questo aggeggio ho fatto i due per sbaglio vabbè non fa niente come lo posso utilizzare ci faccio cosa del metto lo servono tutti questi aggeggi allora ok che ore sono è appena passato mezzogiorno stiamo fottuti che altro sono faccio subito una pala di pietra così che così che ok faccio una pala eh no c'è un temporale lì shit diciamo che non è una tromba d'aria oh un baule ho visto 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 un baule un attimo mezzo stack di terra che devo prendere tutte devo spostare da qui che mi arriva quella tromba d'aria di merda via e quella sta arrivando qua sono sicuro baule 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 ci posso provare cibo cose un sacco di cose uuuu buono prendi tutto ok bam mamma se notta ironical ah 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 allora altra terra devo salire più in alto altra terra dov'è il sole ancora presto vai quindi almeno 32 e 32 di terra almeno un ex stack posso scavare dove sei? dove stai salendo? alve plodi grazie mamma mia ti amo oh no non ho più terra però butto che butto le foglie guarda si sta avvicinando pericolosamente voglio allontanare un attimo da qui pregi un altro albero ok dai 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 ah ok aspetta che cosa fa questo? use you pop is on? ok via legna stabling non ci faccio niente metti qua e posso prendere un altro? si non capisco cos'è questo rumore che sento però sento il rumore del vento cosa non mi piace oh no è qui oh shit è tipo qui cadi 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 albero dai ah mi sta tirando sento il salto lentissimo cos'è questo? oh non lo so via cavoli oh no è una tromba d'aria alla fine bene ottimo direi dovrei essere allontanato abbastanza però una caverna finta là c'è una caverna enorme non capisco dove ma ci sono tipo in mezzo tipo qui lo vedo qui però i poli si sono fermati non capisco vedo benissimo dov'è eh eh questa è una bella caverna da poter esplorare dopo eh se lo sto tramontando io direi di fare la scala uh aspetta faccio in mezzo all'acqua così se esplodono creeper non fanno casino si 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 bella idea lo metto qui così se poi potevano esplodere i creeper non dovrebbero fare troppo casino troppo casino facciamo un po' in alto ok così dovrebbe bastare via facciamo il pavimento di legna ah ok stavolta ce ne ho presa un sacco di legna mi sono fatto distrarre dal cibo non serve il cibo ma non muoio lo stesso che magna riso e shift non mi tradire riso e shift non mi tradire ok facciamo un po' più grande un po' più larga oddio se cado non muoio il problema è risalire principalmente quello madonna che cacchio era non è che sbatte le cose il suo palazzo è matta possiamo fare che si sale non apriamo non apriamo l'anno di zombie eeeh ok 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 ho già detto ok ok no uno me lo devo ah non posso fare lo stesso allora stencil table part builder crafting station tool station part and chest via tutto quello dentro ok 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 direi che vado come i mob i ragni no è un ragno di quelli potenti livly ok recupera vita ok non è tanto un problema non può scavare hai dovuto fare il pavimento da alto 2 mi sa buttati ah peccato il creeper non esplode guarda no il creeper non gliene frega niente ed è spawnato ottimo ok allora devo fare altri pattern che mi servono per fare l'armatura fare tipo così ah no mi serve una crafting crafting table bam bam ok armor station mettici pure waste e la vangu non posso io li invertire ah qui sono in ordine vanno mi ricordo un po' lo di rani non so i mob quindi devo sfruttare al meglio questo pet questo mi dà tipo 10 cuori di absorption per 2 minuti mi pare e mangia le pepite di perra ah no ingotti minchia non li ho vabbè speravo meglio uh ma quanta terra ho non ho preso più che hai visto è qui sotto sentito bastardo tutto qui dentro lo vesto anche io mi faccio il piccone faccio l'armatura full ferro si è autistico cosa ho fatto mi serve 1 2 3 4 mi serve a spiegare un'altra linea vabbè alla fine non è spiegata dai lo sento se mi metto qua mi picchia immaginavo madonna 3 cuori mi ha tolto o no vedo le particelle aspetta ah se ci fosse la ragnatella lo potrei picchiare attraverso i blocchi per un bug vabbè sarebbe bello questi 3 a questo punto farei così farei così e farei così no è caduto il ragno non lo sento più da ne mangeresti i meloni uno lo farei seme anzi pure più di uno due adesso non mi magno ah no mi danno solo mezzo coscia ah non mi danno un cosciotto in te un po' di saturazione non fa male farei anche delle torce bam ah dio disse luce luce fu molti quali ok e ora i pattern allora ho fatto qua l'ho fatto il trim mi serve il metto la come si chiama questo la plate chest plate leggings e i boots yeah e farei tutto di legna a sto punto com'è un'armatura di legna come la come la vede la tinker construct non sento mob salire ci sono un po' di mob sotto ma non li vedo salire chissà perché ma che fai non ti preoccupo se sei tifi per i mob si allora armor material legna non dà niente praticamente però per adesso posso fare tutto di legna quindi direi che basta tutta sta legna non lo so aspetta prima di fare qualunque cosa scone e spada ok scone e spada è qui sotto stagno maledetto e stick uno di questi aggeggi e uno di questi avrei voluto farlo qualcosa vabbè piccola house padina penetrante veloce fammi come una merda pium 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 e gli attack e gli attack spit pugni va un po' più veloce guarda i mob sono lì sotto ma non salgono non so perché l'acqua li confonde non possono piazzare ah peccato che non muore il ragno guarda il ragno quanto corre matto no tira vento questa cosa non mi piace ok insomma li vedo qua sotto ma non salgono però ho fatto la torre abbastanza alta da rimbambirli impossibile forti ragni ragni vabbè ragni ovviamente oh torriatezze in pietra che culo mi ha fatto tutto lo facciamo anche in legna per l'armatura quanto materiale vuoi 4 per l'elmetto ma immagino 6 per l'elmetto e questo ok immagino tipo sì più o meno come il vanilla mettevano 24 di legna totale va bene allora il metto chestplate leggings uzz poi 4 di questi e 4 di questi no me ne manca uno ah fuga vuole l'armatura in legna tristezza bam 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 da un cosa e mezzo di difesa uno schifo proprio e non c'è un cacchio di probabilità questo si rompe però piano piano si rimane anche da solo il ragno se n'è andato ma qua devo farci il la salita vabbè ma stai guardi facendo giuro dovrebbe oh forse sono riuscito a sopravvivere prima notte solo perchè i mob non salgono per qualche modo qua si dico l'acqua non ne ho idea questo si può usare anche per potoggiare fa un saltino all'indietro saltendo a non cadere ma non è abbastanza alto forse anche per muoversi è buono mi sa che non ti consuma energia guardate la fame chi sa chi sa chi sa finito tutto praticamente ora che scendo devo rifare un po' di tutto legna anche per salire quasi qua si questa me la porto farcia qua mi mob uh le skill non ho fatto esperienza non posso potenziare nessuna skill si perchè per usare alcune cose ci servono le skill guarda i ragni ai ragni basta spostarsi un attimo impazzito scusate se salgono e mi sposto di qua cadono la terra ferma sarebbe una tanto si è fatto un'orda di mostri però non salgono ok I guess hai visto che a sto punto mi ci trovo qua dove devo dire la scala ops farò la scala ok stavo per cadendo ah sto facendo giorno beh ho vissuto la prima notte solo perchè ho fatto una torre abbastanza alta non la vedete rimobbe non so se per il fatto che sono così in alto non mi attacca ah è questo però un problema mezzo all'acqua è buono perchè i creeper esplodono non fanno casini ma al contempo i mostri non bruciano tranne i cavalli zucchi a quanto pare oh no lo volevo ammazzare io quello maledetto era un mob di quelli potenti mi dava le robe che fare mi butto c'è un creeper sono scheletri qua che c'è niente ok è abbastanza liberato brugia bastardo muori oh no 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 dov'è il pet del golem di ferro non l'ho preso no 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 ahiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Ah però questi mi sparano Ho un culo Ma c'è una pecora sul cavallo zombie What the fuck Sinciuci Ma i zombie avvicinati Che ti do il corpo di grazia Eh per me quelli come li ammazzo adesso Oh caldo Che li ammazzo Vabbè Siamo giù un albero va No pecora non mi passare davanti Eh cosa stai facendo Non in camera Ok che culo Non si è bloccato come sono sulla pecora La pecora non mi passare davanti Un mazzo Sono la zia Ti faccio cadere addosso l'albero Vai qua Mori E già mi sparano Un attimo che mi sposto Guardali guardali Ma devo farmi qualcosa da lanciargli in testa Forza Fargli qualcosa da lanciargli Ma qua allo spawn c'è la della stone Io proverai a prendere Oh no Quel buio non mi piace C'è la della ghiaia No Questa è una zombie lì che mi guarda Ah shit Ah shit Mori No sento il movimento qui sotto Via Via Allora 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 Passiamo la scala per risalire sopra Passa la linea Ok Beh avrò della carne marcia da mangiare La foresta si espande È il motto della dynamic trees Figo Poi è vero Oggi mi mangio la carbonara La faccia vostra La faccia vostra E di chi la fa? Io Sono esperto nel fare la carbonara Una volta solo mi è uscita buona Una volta sempre ho qualche problema Begore spostatevi no Ok La legna I stick Altro salire 39 Ancora un altro po' 48 Ok perfetto Altro 48 Vabbè nel dubbio Ecco Nel gubbio Ok I schiuderi Abba sono anche desponati Ora come mi sono allontanato Quindi Posso almeno prendere Le pegole Ah già che ci faccio Dormi non posso Un po' Non mi serve Sono in alto Scherzavo allora Niente Ok si I schiuderi sono desponati Sono zombie qua sotto Salire tipo così No mi sa di no Tipo così Quattro livelli Uh posso salire di un livello Nella Nella gerarchia qua Oh no Anche di più Uh Mi ha zombato addosso Bastardo Sento uno shulker Uh ho visto ghiaia però Vado Vado La print È buona Print è un po' meglio Del ferro E della stone Ok No 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 Sperzavo Me ne vado Ok Quattro posso prendere Potrei prendere Un altro po' di legna Sì Perché no Non devo sparare I proiettili di shulker Però Chissà dove sta lo zombie Senti E spara in continuazione Bastardo Vai Ok Manca ancora un po' Per me che finisce la giornata Via via Sto ripopolando La foresta È già cresciuto Ammazza Velocissimi Sti alberi Ok Sono vicino anche a un deserto Non so se mi può essere utile In qualche modo Mangiare un attimo Un po' di carne Non c'è così Dopo questa cosa No non ci arrivo Vabbè Così Dov'è Oh Scusate Aia Bastardo Ok Dove è uscito Per ragno Eccoci qua Salvia Questi ancora non si sono fatti Maledizione Per più tempo del previsto Faccio altri Ok Non so quanto tempo ci voglio Effettivamente Ufff Mamma mia Che fatica Allora Allora Ho della flint Potenziale Gli attrezzi Siamo messi a notte E ancora giorno Io riscenderei Prenderei Prendere anche questo filo Ok E butterei giù Quest'albero Perché Buggata la luce Solo per quello Adattare 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 Proprio la tranquillitudine La notte invece Ka-boom-boom-pau No È andato giù Completamente Puoi prendere Altre cobblestone No Vedo che la buliezza Sta prendendo Il sopravvento Direi che No Direi che proprio no Tagliamo su Via Rifugio aereo Dai Ok Ho provato a fare Una modifica Per la nostra Sto cadendo Veloce Prima che mi siano A spawnare i mob E quelli mi siano A vedere Mi siano a salire Su 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 Ok Ho preso dei fili Posso fare un arco Posso fare un arco Posso fare un arco Ah oddio È collegato al drying rack Perché ci sono due slot Ci posso mettere niente Nel secondo Strano Oh sento uno zombie Oh È già salito questo Sali Fatte vedere Dai le pal Grazie Aspetti di sfasciare il parimento Bitch Ok Ok Allora L'arco Non ho idea di come si fa L'arco non ho idea di come si fa Boom Ok Ok di legna Base Il stone fa cagare Di flint Tiri molto più velocemente Però spari molto più da vicino Un po' Cactus sarebbe buono Non è vero Fa cagare Però Insomma Uno che da bonus damage Tipo no Ma il ferro Il ferro sarebbe buono Vabbè Facciamo il solito arco normale Salve Qua da giù Grazie Dell'acqua Maledizione Ora Facciamo l'arco base Allora Ci serve questo E se non mi ricordo male Ce ne servono due Uno per pezzo di sopra Uno per pezzo di sotto Ah mi ha rotto Il cazardo E poi serviva il filo Eh Il filo Il filo Bowstring Devo fare con il filo normale Ah sono tutto uguale praticamente Non cambia niente Sono tutti uguali Bene Facciamolo di filo Tanto ce li ho Per il bowstring Quale è il bowstring Questo Ok Bowstring Bam Quando me ne servono di fili Ah uno solo Ottimo E infine mettiamo tutto insieme Un malissimo arco Che non ho frecce adesso Ma Per le frecce invece E' un'altra cosa a parte Ehm Per le frecce invece C'è l'arrowshaft E il fletching L'arrowshaft E' tipo il bastoncino Sì Ehm Modificatore De che? Del danno Ah ok Sì Quante munizioni hai Sarebbe buono Il canna da zucchero Però i proiettili Nel 50% Dei possibilità Di rompersi Ok Ma dove sta camminando Questo scusa Buttati Mi sento camminare Ah dove si è messo Lo zombie Prima Bastardo Ehm Allora Shaft Della freccia Sì Ok E invece la punta Ah no Il pezzo di dietro Ah quello è già la punta Ok Questo è il dietro C'è le foglie Slime No Le foglie Le ho buttate Perché le ho buttate Sono un pirla Oh no Sì Sono un pirla Sono un pirla Non posso fare le frecce Dannazione O lì non ne ho Ah precisione 50% Però fa un po' Cagare Sempre buono quello di slime Cioè ogni sorta Degli slime volante Figa Bastardo sta qua dietro Mi colpisce sicuramente Ecco Bastarda Eeeh Mi manca un pezzo Ah no Mi manca anche Ah vedi Mi manca anche la punta Oh mamma Scusa Arrowhead Arrow shaft Bowstring Ah forse Contano questi Non lo so Eh Non c'è E di cosa lo faccio Scopo la punta Dove lo prendo A caso Come mi pare Boo Non lo so Prendiamo Vabbè Facciamo altra roba Facciamo gli altri studi Sturiagini Sturaggione Qua No Questo E questo Eh 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 Questo è questo Questo ci vogliono le foglie O le piume Non ho nessuno di due Io le ho buttate Pensavo Non potessero servire Adesso Mentre per la punta Eh per la punta Posso fare di qualunque materiale La farò di flint Vediamo un po' la differenza La farò di legna Andor Ah vediamo qui Durabilità Ah è questa che dice La durabilità Mining speed E l'attacco Ok Mining speed In genere niente Vabbè Il danno Mentre è questo Fredia danno Fredi danno Durabilità poca Vabbè di flint è sempre meglio Però c'è Head C'è Crude 2 Non mi ricordo cosa fa Cosa fa Crude 2 Bonus damage Aghese Armoned targets Ah ok Buono Fai danno bonus Contro quelli che Senza armature Tiè No Non hanno mai sti cosi Forse Due secoli Che stanno lì Aspetta Rock And flash 400 minuti What Ma perché qua dice 400 Eh What the fuck Ma che diavolo Mi ricordo che è una mod Che dà questo problema Non mi ricordo Quale e quale config Devo disabilitare Cacchio Ok Sta facendo giorno Wow Un'altra notte Passata tranquillamente Sono uno zombie Che ha rotto un attimo Le scatole E' salito questo Scusa Da dove l'ha messo i blocchi Ah da dietro Tranquillissimo proprio Eh Direi che andrò a cercare Dei polli adesso Faccio le frecce E posso ammazzare Di stronzi Ho qualche altra alternativa Ranged Un cartello Ok Ah può essere usato come uno scudo Bello Potrebbe provare Funge sia da arma Che da scudo Ok Direi di scendere Stavolta con l'amico mio Purtroppo non posso avere cibo Maledizione Qui c'è qui sotto C'è un creeper Ok E proprio insisti Un'altra carne di marcia Che non posso trasformare Maledizione Ma smettiti di scavare Qui è Ok Mi posso morire un altro Ottimo Ma c'è un altro ancora Vieni qui Bottana Ha messo il blocco Grazie A proposito di esperienza Posso far salire qualcosa Io non mi ricordo Per la cama Ci serve 5 di farming E 5 di gathering Ok Andiamo farming Andiamo gathering Ok Perfetto Ah mi è andato un po' What? Ah ma di chi sta morendo l'albero? Uh Ecco perché a volte non hanno i fogli Sì perché muoiono Uuu Pulli Nooo Quanto siete veloci Ma che diavolo Non ho pietra C'è un ragno Mezza l'acqua Ok Non è male che non nuotano veloce Oh Sua sorella Oh no Non ho più durabilità Oh Siamo senza niente Vieni qua Bitch No dammi quello Ok Oh What the fuck C'è What the fuck Oh no Ce n'è uno Vicino a casa mia Vicino a casa mia Ok Hai sparato una freccia Con l'ascio in mano Complimento Ma gli squid danno da mangiare No Direi proprio di no Direi proprio di no Da fastidio avere gli addonanzament Ero io di prendere Direi di prendere un po' di cobblestone Direi di prendere parecchia cobblestone Dobbbero trovare anche altra ghiaia Oh 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 C'è uno scherzo di quelli Champion sotto Il ferro non lo prendo nemmeno Spero che ho solo tempo per adesso Mi è inutile prendere il ferro Non lo posso usare Per farci un secchio Sarebbe utile un secchio Sì Quello sì Ok allora Vado per il secchio Scudo non lo posso usare Perché mi serve tipo Le skill potenziate Cazzo si può fare col ferro? Niente Il resto Per le attrezze d'armatura Serve da smeltere Va bene Va bene Va bene Ok Fa un po' paura Oh qua c'è altre ghiaie Oh anche una flinta Che culo Qualcuno si è rotto qualcosa No ti vengo a rompere il culo No 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 Direi proprio di no E' un po' di carbone Direi proprio di no Oh finalmente un ardor Che sta durando un po' di più Boom Ecco Ok non sono morto io però Facessi così Ma non è una brutta idea Sono un po' più tranquillo almeno Oh qua c'è altre ghiaie Chi l'aveva vista? Portami Sono caccato sotto Ho sentito anche il zitto stavolta Oh 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 Fermo Maledetto Bastardo Ok Una pecora Che ci fa qui sotto Ah per fortuna questa qua Mi fa vedere i mob Quindi Quindi anche nella caverna buia Riesco a vedere i mob Un po' una cacata Mi sa Aie Oh altre ghiaie Paura di di là però Paura di di là Prendi tutte Ma qui è chiuso tipo Aspetta Scusa Faccio così Ah ok Ah lì è esploso il creeper Bene Devo stare attento Mi sono pronto con il tasto destro Nel caso si avvicina qualcuno Sono prontissimo Ok Ok Un po' 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 E' un po' più bello! E' un po' più bello! O no Arrivo a Altre stack Faccio un milione di flinte Faccio pure la tentatura di flinte Cos'è? Ship Ma che ci fa una pecora lì giù? Oh no sento uno scheletro che si sta avvicinando tantissimo Oddio Questo c'aveva il dispensare in testa Ok Vabbè direi Direi basta anche perché vedo che sta facendo notte Non è vero No ok ancora giorno Però mi sto un po' cagando sotto a stare lì sotto Guardalo guardalo C'è Depp Strider sugli stivaletti Quanto è veloce Ma mi hanno dato le frecce Perché non si muove più? No Bastardello maledetto Ok Via Via oppure che cosa vuol trovarlo? Un po' di legna forse potrei prendere A tagliare un albero Sì Ok Mettiamo giù un albero Oh che fatica Ma ok Ok Un po' di legna non fa mai male Posso prendere anche quel ferro a sto punto Anche perché questo golem mangia Mangia il ferro Che lo potrei dare Ok La paura del buio Ma la paura del buio lì Mamma mia La paura del buio Un po' di legna forse è che è giunto il momento di fare notte Di prepararci La prossima giornata Non è che cammino Sì Vorrei Ah Vorrei che Poi che ci faccio con questi? Ci posso fare qualcosa di utile? Fare qualcosa di utile? No È un colorante Vabbè Via Evacuiamo Devassero il cibo Sti bastardi Evacuiamo su 400 minuti Quanto sono? 400 minuti Mie Tantissimi Dai ma che bug orribile Guarda Mi ricordo che mod lo fa Ho sbagliato Ecco Sapevo che sarebbe successo Vabbè Se salgono i mob Ho 10 cuori in più per 2 minuti Maledetti Maledetti Devo allargare il baule Piccola modifica Una piccola modifica Ecco qua No No L'ho pure tolto Vabbè Inutile che stanno qui tanto Ah immagino anche i polli A questo punto Sì Tutta la roba Tutti i drying Minutos Eh C'è chi si fa? Oh Guarda Tutto 400 minuti E poi ci sono di nuovo 5 minuti Che cagata Stardo Maledetto Devo cagare sotto Le frecce me le porto Comunque possono servire Guarda quanti ragni Andate a cagare Andate a cagare No sta salendo anche uno zombie villager Oh fido le frecce Fine Però non hai po' Nooo Ah shit Eh vabbè è la fine Penso sia la fine Penso sia la fine No Sì È la fine È completamente La fine Completamente La fine È completamente La fine Completamente La fine sai sono zombicolati in attivo non ho parole no devo fare anche il figo dicendo all'alba del quarto giorno sono ancora viva invece maledetti maledetti ammazzato accetto il tuo fatto alcuno mi venga a salvare per favore guarda esploso tu mi ha fatto esplodere tutto io sono senza parole guarda quei dieci cuori di più le servite a niente mi hanno mi hanno squagliato o erano scaduti non lo so però il pet era utile peccato 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 guarda qua ha fatto una miniera hanno fatto facessero vedere amanti a sto punto non non sapremo mai cosa c'è lì sotto vabbè vabbè non piacere è stato bello è stato bello